Confcomercio Marche Nord e l'omologa associazione di categoria di gubbio saranno domani 4 giugno a Roma nella sede dell'Enit per presentare all'Agenzia Nazionale del Turismo il progetto che punta a recuperare su scala nazionale la riconoscibilità della contessa come la via più breve e comoda di collegamento e favorire il recupero per le imprese del territorio dopo gli otto mesi di chiusura della strada che hanno dirottato su altre vie e altre località il traffico commerciale e turistico proveniente da Umbria e Lazio noi per rilanciare la riconoscibilità della contessa come la via più breve per arrivare dall'Umbria alle Marche insieme alla Confcomercio di Gubbio e dell'Umbria abbiamo ideato un progetto che si chiama Contessa una porta tra cielo e terra che viene declinato in tre modalità uno è un itinerario enogastronomico il menù della contessa quindi noi sceglieremo dei ristoranti sia in provincia di Perugia sia in provincia di Pesaro e Urbino fino appunto a Marotta che presenteranno in via permanente quindi non è un progetto che dura una settimana o dura cinque mesi in via permanente questi ristoranti che saranno scelti e segnalati con un'apposita guida proporranno ai turisti piatti o menù della tradizione l'altra iniziativa riguarda invece l'itinerario archeologico quindi dalla romana Gubbio passando per la scheggia dove passava inizialmente in epoca pre-romana ma anche all'inizio quando venne ideata la Flaminia passava appunto la strada Flaminia e sarà un itinerario anche qui con una guida che verrà pubblicizzata dalle due regioni e dalle due Confcommercio in tutta Italia il terzo percorso è legato invece a Federico da Montefeltro quindi dai Montefeltro e della Rovere da Gubbio a Urbino Federico da Montefeltro nasce a Gubbio diventa Duca d'Urbino Gubbio era la seconda città del Ducato e quindi noi raccontiamo questa storia attraverso le realizzazioni di Federico da Montefeltro o comunque della famiglia Montefeltro e della famiglia della Rovere quindi tre itinerari legati ad un progetto che in via permanente vogliono rilanciare la conoscibilità della Contessa come il percorso più breve per riportare i turisti umbre e laziali nel nostro territorio Grazie a tutti